Natura, animali e paesaggi. C'è tutto questo nel calendario 2021 ideato dal gruppo di fotografi amatoriali La Fenice, che ha deciso di mettere in cornice le bellette nascoste della nostra provincia. Abbiamo messo praticamente tutte le foto, almeno una foto di ogni iscritto, di chi ha partecipato e chi ha dato le immagini. Quindi una foto di tutti, proprio per dare risalto al lavoro che hanno fatto i nostri fotografi. Tutti i fondi raccolti con la vendita del calendario sono destinati a Damop, l'associazione piacentina al fianco dei malati oncologici. La copertina ritrae Castellarquato. Abbiamo scelto Castellarquato in quanto è un simbolo della nostra provincia. Il calendario nasce da un'idea di Fausto Ferrari e coinvolge 28 fotografi locali. Questa è una foto che ho fatto a Prato Mollo in primavera. Mi sono trovato lì con una fioritura di fiori gialli e i cavalli al pascolo. Ho pensato di trasmettere la serenità del luogo, la serenità del posto. Il soggetto della mia foto è un fiore, un fiore abbastanza raro nella nostra provincia, che è solo in alcune località ben delimitate. È il Dittamo e questo è stato ripreso in Val d'Arda. In città è possibile trovare il calendario nelle edicole di Via Caduti sul Lavoro, Via Manfredi, Via Romagnosi, nel quartiere Besuri che è di fronte al palazzetto dello sport, così come nelle librerie di Via Emilia Pavese e Via Romagnosi, nonché nell'edicola di Via Capra Ponte Nure. Il calendario nasce da un'idea di Fausto Ferrari e coinvolge 28 fotografi locali.